bello a tutti ragazzi bentornati nel tar channel io sono dal.c e benvenuti in questo nuovissimo video qui su saints row 4 in coop con pizzo97 ciao a tutti e come al solito ragazzi non avremo mai un inizio tranquillo noi cioè è praticamente impossibile che io e lui abbiamo un inizio tranquillo quindi state neppure sicuri o ci insegue la polizia o stiamo in mezzo a qualche sparatoria strano allora andiamo alla prossima missione sì andiamo alla prossima missione allora incarichi infrangere la legge oltre la soglia andiamo alla fenditura comunque non credo che questa sia una missione principale sì sì sono tutte missioni principali questo è allora perché non mi hai chiesto la conferma come hai chiesto la conferma non mi ha chiesto la conferma mi ha detto che mi potevo unire no no sono andato proprio alla missione principale vabbè meglio così ma per me è andato tra gli incarichi delle missioni principali sì sì ah dai perché sono andato a finire un altro flash point vabbè io l'ho saltato poi ci ritorneremo sono cascatinato è pure io mi sto facendo tutto il cosa a saltare dall'acqua andare avanti quindi però sono arrivato quasi sono arrivato io e io ci metterò un po prima vabbè ma pensate a vedi adesso ti chiedo la conferma perché dovevamo arrivarci wireless dovrei saltare da una piattaforma all'altra trasformando le piattaforme da rossa a blu che divertente più cadere al centro più forte sarà la connessione allora ragazzi mi sa che anche in questo episodio dato che questo episodio questa missione non credo che sarà molto movimentata a livello di sparatoria andremo a liberare flash point dopo quello di prima ma sembra tanto super mario bros ma devo prendere il centro per fare più no sale ok no no non cascare salta ma tu ci sei sì 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 sto più dietro sto cercando di fare più centri possibili avvertendo basta che ne ne fai uno quindi cioè io sto facendo solo centri quindi no 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 sono cascato giù maledizione ah ok 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 bronzo abbiamo fatto andiamo di qua ok prendiamo un altro centro aspetta che qua non so perché non sono cascato giù no No, sono caduto giù Ah, pure tu, hai visto Ma immagino che sia lo stesso punto dove sei cascato Non lo so, a me dove stava il cerchio piccolo E poi stava questa specie di cosa per prenderla in corso Ah, hai visto? Lo stesso punto Perché il bello è che sembra che stai messo bene Ah, invece non ci arrivi Cacchio, oh! Devo fare almeno l'oro Veloce, prendi qualche centro Ah, ma io... No Stavo quasi andando su un centro Vabbè, l'abbiamo completato argento, dai Non fa niente Vabbè, tanto era una missione praticamente inutile Sì, non ho capito ancora a che serviva questa missione Non ha dato neanche niente di esperienza Ma, sta missione non l'ho ancora capita bene, però Vabbè, mi sa che ci conviene farne proprio un'altra di missione Sì, dai, facciamo un'altra missione perché Non ha senso questa missione Con la sensazione di bruciore Vai alla bru... Madonna, 2000 metri Mi aspetti Attenzione No, ho finito la stamina Tra un po' la finisco pure io, quindi Ma lo sai che se salti e una volta che hai saltato premishift fa un piccolo volo, sì? No, non lo sapevi No, non lo sapevo Eh, non lo sapevo Eh, però non so, amo con te che tasto è Eh, quello della corsa È giusto Vai, mi mancano solamente 1500 metri Oddio Ti sei bloccato da qualche parte No Mi sono solo andato a schiantare Che è diverso Ma a piedi o con la macchina? Con la macchina perché sto senza stamina qui Oh, ho di nuovo la stamina Io andando sto andando un po' a piedi Ancora 1200 metri Mamma mia che pizza Grazie a Dio che c'è super salto Hai preso tu il cluster scommetto Sì È possibile che io entro sempre nei flashpoint Ma pure io, quindi Ma quelli stanno capire in mezzo alla via Sono un po' fastidioso Però il frattempo quando passo picchio la gente No, io vado spedito Eh, io so caduto in acqua Vabbè, tanto ormai ci sono quasi arrivato io 500 metri solo Solo 500 metri ancora Solo 500 metri Sì, l'uomo della cola Ma che ti ha fatto di male quello là? Quello rompe, quello della cola Eh, con flashpoint Andiamo avanti Evitiamo il flashpoint Uscita dall'area flashpoint Ah, siamo scappati Ok Ci sono Sì, sono appena arrivato Vai, conferma la missione Vediamo un po' No, per utilizzare questo Dovrei modificare manualmente il tuo potere Quindi abbiamo un altro potere adesso Eh, credo di sì Scarica di fuoco Scarica di fuoco Premi due volte F1 Fatto Dov'è? Voglio bruciare qualcosa Che spettacolo Che spettacolo Bruciate Stai bruciando pure tu No, perché ti sei messo davanti? No Bruciali Che spettacolo Oh Ma perché mi dai fuoco? Sei tu che mi dai fuoco Bellissimo Guarda come bruciano Tu vai io Da cazzotti Mi piace questa cosa di fuoco Ahia Ah, finisce a darmi fuoco Oh Accostramento elemento potere complete Certo che chiamarla missione è questa Mamma mia Facciamo così Per concludere questo video Andiamo a liberare un flashpoint Eh, ok Però Lo liberiamo solo col fuoco No Vediamo Fammi vedere sulla mappa Come sono Come sono indicati i flashpoint Ma hai preso un incarico? No Sei sicuro? Sì, sì Va bene Ma camminando a casa dovrei trovare un flashpoint Ci siamo passati per Trovato Ma c'è qualcuno che mi sta picchiando Tra l'altro Eh, vieni dove sto io Che qua Ci stanno tante persone da uccidere Eh, lo so Io sto facendo una cosa però Eh, fai, fai Mi sto potenziando Però c'è qualcuno che mi picchia Anzi, mi sparano Chi è che mi spara? Ma che vuole sto poliziotto? A posto ragazzi L'ho liberato da solo il flashpoint Perfetto Ma perché l'agente mi spara? Lo sai che adesso posso usare le armi a due mani Eh, lo so Stai il potenziamento Perché l'hai fatto? Boh, ho mandato Cosa è bella che posso muovermi Grazie Colpa tua che mi hai congelato Ragazzi, qua è partita la guerra Ma c'era quella che mi sparava Vuole scappare No No No, si sta congelando l'arma No Non scapperai No No Non puoi scappare No Maledetto No No Devi morire Devi morire No 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 Ma quanto cacchio alto sto palazzo Ci prendiamo a cazzotti? No Uffa, voglio prendermi a cazzotti Ah Ah Sto salendo ragazzi Ce l'ho quasi fatta Ma sei sceso, lo meno Che c'è? Cazzo, ma è beccato Surprise, madafuck Volevi Lizz No, ti ho lisciato con la scarica Che cacchio è esploso Alla Oh Sta esplodendo tutto Dov'è il lezzo qua? Ah, sei in acqua Maledetto Dai Che è quasi morto Dai Su Dai che è quasi morto Prendiamola la lepre Ecco Mori comincia a fa Spider-Man E qua Cioè guardate Guardate come fugge Guardate come fugge Va, va Addosso ai muri va Io intanto prendo i cluster Io li prendo i cluster Beh, vabbè Dai ragazzi Mi raccomando Lasciate un bel pollicione in su Ciao